Ciao dolcezze, oggi video collaborazione, il mio primo video di collaborazione natalizio Allora il video di oggi è collaborazione di Makeup & Beauty 92 e c'era un'ampia scelta perché potevamo fare o un video di E&I oppure un video con un make up o, che ho quello che ho scelto io, un tag natalizio. Il tag natalizio consiste appunto in alcune domande e a sfondo ovviamente natalizio e quindi le risposte che ognuna delle ragazze dà. Dietro alle mie spalle vedete appunto il mio piccolo sfondo natalizio per questo video, appunto l'albero e niente spero che il tag vi piaccia e siete tutte taggate, quindi chiunque lo vuol fare volentierissimo e comincio appunto con leggere le domande e quindi rispondere. Allora, Happy Christmas Tag! Prima domanda, il tuo ricordo dell'infanzia inerente al Natale? Allora, quando ero piccolina quello che mi ricordo che è proprio legato legato al Natale è che quando ero 24 la sera tutti si andava a dormire in attesa di Babbo Natale. Il mattino dopo, spesso e ventieri è molto simile il Natale a casa mia, c'eravamo sia io che i miei fratelli, eravano tutti due piccolini, lui più grande di me ha una decina d'anni più di me, però il Natale più o meno l'abbiamo sempre vissuta alla stessa maniera. E in pratica noi aspettavamo il mattino dopo e il mattino dopo c'era nel salotto un fantastico scatolone, e questo non lo ricordo ancora perché c'è questo scatolone enorme, con dentro ogni ben di Dio, che potevano essere regali grandi, regali piccolini, pacchettini, quindi noi prendevamo tutto e andavamo nel lettone di mamma e papà, quindi noi ci svegliavamo, e Natale, 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 ci sono i regali, prendevamo, dopo mio fratello e mio papà veniva lì, ci dava una mano, e andavamo tutti nel lettone e aprì i miei regali ed era bellissimo, era proprio una sensazione molto familiare, molto bello, era uno dei ricardi forse più belli legati a Natale. Domanda numero due, qual è il regalo che hai ricevuto e che ti è rimasto nel cuore? Oh, allora, regalo proprio di Natale? Allora, quando mi sono messa insieme con mio primo fidanzato ufficiale, proprio mi sono stati insieme 12 anni, per Natale lui era nato me a Sara e mi aveva regalato questo pupazzo della Trudi, che era un elefante, l'ho avuto fino a un annetto fa circa, poi dopo l'ho regalato a un altro bimbo, un vicino di casa, che appunto era un bimbo e allora gli ho voluto regalare, l'ho ottenuto per tantissimi anni, e questo, questo Dumbo, che l'avevo chiamato Dumbo, ed era tutto rosa ed era enorme, non mi stava tra le braccia, mi ricordo che lui era andato via e quindi in qualche modo aprire questo regalo era un modo per sentirlo più vicino, mi ricordo che il giorno di Natale ho dormito, tipo nel pomeriggio, mi sono messa a dormire un po', ero 18 anni, quindi comunque era abbastanza piccolina, mi sono messa a dormire un po' e poi mi sono addormentata con questo pupazzo, con questo elefantino tra le braccia, un bellissimo Natale, anche se lui non era lì con me, era come se ci fosse. Domanda numero 3. Qual è il fin di Natale preferito? Allora, il fin di Natale assoluto preferito è Mary Poppins, chiunque penso che sia un amante di Londra, Mary Poppins vi è rimasto sempre, perché Mary Poppins e Mary Poppins la tata che tutti vorrebbero. Io avevo una tata da piccolina, fantastica, non era Mary Poppins per una gran tata che anche al giorno d'oggi, anche adesso, sono passati veramente una vita di anni, ancora viene a mità di famiglia, viene ancora a casa ed è stato forse il film Mary Poppins che mi ha sempre legato di più. Anche Miracolo sulla 34esima strada, però un po' di meno, un pochettino Mary Poppins poi Londra, non si può non amare Mary Poppins, quindi. Ok, domanda numero 4. Piatto preferito è natalizio? Allora, piatto piatto è in realtà un contorno, non è un vero e proprio piatto, che è il purè, io sono un'amantissima del purè e lo faccio molto a modo mio, infatti spesso ai valentieri quando faccio il purè a casa che mi invito ospiti, spesso mi chiedono la ricetta perché sono molto brava e lo faccio in maniera diversa dal classico purè perché cuocio le patate direttamente nel latte, poi dopo le lavoro, ci aggiungo il formaggio, un tocchettino di burro ma pochissimo perché in realtà cuocendo nel latte prendono già un sacco sapore e poi dopo uso tipo quei frullini a immersione per renderlo cremoso e viene una cosa spettacolare, io adoro, 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 mi piace tantissimo, quindi quella è la cosa che mi piace di più del Natale. Domanda 5. Ti piace decorare, adobbare la casa? Vabbè adesso vedete qualche piccola decorazione ma sì, tutta casa è adobbata, io adoro il Natale, adoro il periodo in cui arriva il momento di poter addobbare, poter fare l'albero, in realtà l'albero l'ho fatto tipo a metà di novembre quest'anno, l'ho fatto ma veramente tantissimo prima, proprio perché volevo sentirlo, volevo tenerlo tantissimo nel cuore, quindi sono già, adesso siamo neanche inizio dicembre, l'albero è già lì da un pochetto. Devo litigare con Giacchi e Merlino perché loro vogliono salire sull'albero e mangiucchiare i fili, ma non voglio. Ok, domanda numero 6. Cosa non devi assolutamente mancare per te sulla tavola natalizia? Allora, sulla tavola un centrotavola, in questo caso io ho un centrotavola della Jewel Candle, che delle Jewel Candle ne avevo parlato sia nei video dei preferiti che un altro video, mi sa, ne avevo accennato, che sono queste candele che man mano che bruciano ti lasciano un gioiellino che lo vai a togliere, può essere un orecchino, può essere un pendente o comunque un altro oggetto e ho degli orecchini, ho avuto un anello e tu quindi anche carino perché oltre ad avere dei profumi spettacolari, appunto ci sono questi gioiellini dentro. Io ho scelto una profumazione che era tipo cannella e biscotti di gingerbread, se non ho riporto male e io le stra-adoro perché sono buone, hanno questo profumo, sembra di bere un vin brulè, di sentire proprio quei profumi tipici delle bancarelle di Natale, ci mancano giusto come i croccantini, quelle mandorle croccanti, quelle cose che magari trovi nelle bancarelle di Santa Lucia, qui da noi abbiamo Santa Lucia ed è piena di appunto queste bancarelle. Poi, il tuo albero di Natale, per chi vuole mostrare il proprio, è qua dietro alle mie spalle, lo vedete un po' così, poi magari vi posterò anche qualche foto su Instagram, quindi vedrete il mio fantastico albero di Natale. Già c'è qualcosa su Instagram dove ci sono messaggi a chi merlino lì di fianco, però insomma ve ne posto uno un pochino più, magari con le luci accese e con il fatto che appunto sia addobbato e acceso. Poi, il regalo più bello è il regalo più brutto, allora il regalo più bello penso sia appunto quello che avevo già detto prima, quello che mi ha regalato il mio ex fidanzato, cioè uno dei regali forse più belli che abbia ricevuto di Natale. No, non è vero, in realtà ce n'è un secondo che mi sono regalato l'anno scorso, nella mia esperienza appunto di quando sono andata a vivere a Londra e la mia conculina mi ha regalato un bellissimo cappello che purtroppo alla fine è rimasta a Londra, ma vabbè, e mi aveva fatto appunto questo regalo e prima mi aveva fatto tipo un bigliettino dove comunque mi ringraziava, diceva delle cose carine sul fatto che noi siamo stati conculine per quasi sei mesi e, ecco, forse più il biglietto più che il regalo in sé ce l'ho ancora, mi ha proprio un cuore, mi ha fatto veramente piacere e sono molto contenta anche perché mi manca veramente tanto, mi manca tantissimo Londra e mi manca tantissimo la mia conculina perché è una persona che è là, è una persona fantastica, si chiama Lara, ciao Lara, ok, il regalo più brutto, non so, non mi sembra di aver mai ricevuto di brutti i regali, perché anche se magari non corrispondevano a quello che potevo volere, ho sempre l'idea che un regalo sia un regalo, quindi conta il pensiero, conta quello che c'è dietro, secondo me almeno, non credo che esistano regali brutti, possono, esistono regali che non piacciono, ma alla fine brutto, brutto mai niente. Domanda 9, quali prodotti di make up non possono mancare per il giorno di Natale? Un quintale di mascara, quello sicuramente, le quintale di mascara perché ci vuole, ci vuole delle belle ciglia, magari uno smalto rosso, che comunque un pezzo rosso ci vuole, che sia magari un piccolo pezzo d'abbigliamento, quindi magari una sciarpa o un vestito o qualcosa, però ci vuole sempre qualcosa di rosso, a Natale non può assolutamente mancare qualcosa di rosso, e per il make up forse un ombretto dorato, dorato, argentato, forse più dorato, ombretti un po' più brilucciosi, rossetto rosso no? Ovviamente, yes, rossetto rosso, sì, per Natale rossetto rosso. Se si è in casa, che magari si è a fare la classica cena mamma, papà, suoceri, allora magari, ecco, teniamo rossetto rosso per l'uscita col fidanzato o col marito o quant'altro, però sì, magari anche, c'è soltanto un trucco leggerissimo, un capello tirato su e un filo di rossetto rosso che non è magari carico, come può essere questo, che è comunque bello carico, anche soltanto un velo solo per illuminare le labbra, come un colorito magari, un incarnato fatto bene, lavorato magari con luci e ombre, sì, ci sta veramente bene. Domanda 11, che cos'è il Natale per te? A cosa ti fa pensare? Allora, che cos'è il Natale per me? Allora, sono passati dieci anni, negli ultimi dieci anni ho passato nove anni, il Natale dentro un centro commerciale, perché ho lavorato per dieci anni nel centro commerciale e l'ultimo anno l'ho fatto a Londra da sola. Il Natale è sempre stato, nell'ultimo periodo, un momento di casino, un momento di... c'è tanta gente, c'è lavoro, è stato sempre lavoro, 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 lavoro. Finalmente quest'anno è il primo, primo, primo anno dove sento tantissimo e il Natale. Sono contenta di poterlo passare in famiglia, anche perché penso che avere la possibilità di stare con le persone alle quali vuoi bene, anche se per qualche giorno, anche soltanto perché è Natale, anche soltanto perché è la tradizione, mangi il panettone, bevi un po' di spumante, è un modo per esorcizzare il fatto che alla fine durante l'anno non siamo mai buoni, non ci trattiamo mai bene. Quel giorno lì ti serve a ricordare che in realtà è Natale tutto l'anno, quindi ogni volta che c'è Natale dovresti fare buoni propositi per l'anno nuovo e come in cima alla lista dovresti dire è Natale tutti i giorni, quindi comportati come se fosse Natale tutti i giorni. Ultima domanda, che cosa ti autoregalerai? Allora, fino a poco tempo fa, tipo 5-6 mesi fa, ero intenzionatissima di fare un regalo pazzesco e di comprarmi la borsa alla Spiri di Witton, perché mi piace tantissimo, sono degli anni che ci vado dentro. Dico la verità, in realtà in questo periodo, dall'estate adesso, ho preso tanti piccoli regalini, tante piccole cosine, quindi cose molto più discrete, molto più economiche, però alla fine mi sono fatta talmente tanti tanti regalini, ho comprato magari dei pantonelli che mi piacevano, degli siti che mi piacevano, degli accessori che mi piacevano, che non mi sento di dover autoregalarmi niente. Se mi capiterà di ricevere qualche regalo dagli altri, venga, non so se quest'anno andrò a comprare un oggetto per metterlo sotto l'albero, mi basta magari gli auguri delle persone che amo, perché stanno, come dicevo prima, come non mai, essendo moltissimo di più, dopo aver passato davvero tanto tempo lontano dall'idea del Natale come momento di cuore proprio. Non si dice momento di cuore, però quello che intendo è un momento dove non è importante aprire il regalo, ma è importante l'atmosfera. Spesso e volentieri mi guardo intorno e so che il Natale è diventata purtroppo al genuto oggi una festa commerciale. Tuttavia ci sono delle volte in cui il Natale è proprio la festa del momento e quel momento deve essere rispettato e onorato. Sembra un po' un discorso da vecchia tia, lo so, però non mi interessa, nel senso sono proprio dell'idea che quest'anno il Natale sia, almeno per me, il Natale sarà un momento di riflessione. Voglio chiudere quest'anno e cominciare l'anno 2016 con un'idea di me molto diversa, quindi spero che questo sia l'ultimo Natale fatto in questa maniera, l'ho chiusura dell'anno, che però è più dalla grande, ecco, insomma, spero di sì. Quindi, ragazze, le domande sono finite, grazie per aver visto il video, se vi piace lasciate il pollice alto e se non siete già iscritte, qui, sotto, qui, c'è il logino per iscrivervi e che altro dire, seguite il mio canale perché ci saranno altri video natalizi molto carini e seguite soprattutto le ragazze, adesso non so se già oggi riesco a postare sotto nell'info box tutte le ragazze videocorrelati, in caso dei prossimi giorni andateli a vedere, come dico sempre per le collaborazioni, perché sono davvero ne vale la pena, sono tutte ragazze bravissime, tutte noi che facciamo questa cosa del make-up, c'è una titica passata, del make-up, dei canali di outfit, dei canali di fashion, li facciamo principalmente per noi stesse e poi ci fa piacere che magari anche ad altre persone possano venire qualche spunto, qualche idea. Ragazzi, che dire, buon Natale, molto in anticipo e non so davvero come finire, perché questo video mi ha lasciato un attimo di emozione, ecco, io poi cerco sempre di nasconderle, però in effetti poter parlare del Natale così liberamente, così come se fosse davvero la festa, la vera festa del Natale, quindi la festa dove tutti sono più buoni, sarebbe proprio il più bel regalo che Bobbo Natale ci potesse fare e quindi riuscire a guardarci intorno e dire, cavolo, non siamo poi così male. Quindi mi auguro per ognuno di voi di ricevere tutto quello che vuole, materiale e soprattutto non tanto fisico ma nel cuore, quindi l'affetto delle persone alle quali vogliamo bene, l'amore, fidanzato, fidanzati, eccetera, eccetera, e soprattutto l'affetto appunto di chi ci sta vicino e chi ci vuole bene. Ragazzi, buon Natale, finger bell! Ciao!